ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video eccoci qua ancora una volta no con questa bellissima rubrica simpaticamente chiamata reaction ai vostri video che altro non è però che una reaction ai vostri orologi che sono all'interno del video che poi voi vedete all'interno del video mio è una mariosca come si vuol dire che al mercato mio padre compro ora come partecipare lo sapete video in orizzontale un sette minuti spigliati concisi belli alle grotti e poi lo caricate su itransfer.com e mi mandate il link a me poi lo scarico li guardiamo qua assieme prima di guardarli però vi voglio ricordare che domenica 12 maggio ci sarà il quinto raduno del canale il quinto watch meeting a viareggio presso la gioielleria pasquale domenici ci incontreremo alle ore 15 nella zona pedonale antistante e poi potremo anche entrare dentro il negozio e guardare provare gli orologi senza chiedere niente a nessuno proprio una giornata libera di quelle bastano rubarli poi quello ci pensa il mio amico piero alla fine poi siamo lì poi ci saranno anche delle interverranno anche delle case esterne sembra che orris sta preparando qualcosa manderà anche umberto pellizzari in qualità di testimonial ci saranno anche altre case che porteranno delle novità qualcosina ci sarà para ponzi ponzi para detto questo vi mostro l'orologio del giorno che è questo simpatico cartier santos orologio che ora ultimamente sto indossando parecchio d'altronde è uno degli ultimi arrivati quindi lo indossiamo poi magari verrà l'estate e sarà il caso magari di utilizzarlo magari solo la sera no d'estate se un pochino più a rischio situazioni acquatiche anche quando meno te lo aspetti no magari esci poi diciamo andiamo là si andiamo là e te c'hai cartier santos sulla spiaggia no quindi magari d'estate un po meno e avranno spazio gli altri orologi no ecco detto questo guardiamo il primo video cosa facciamo siamo a pettinare le bambolotte no primo video fuoco ciao davide ciao giulia e simone e ti presentiamo la nostra collezione di orologi ti abbiamo scoperto durante il lockdown cominciamo giulia love no giulietta cominciamo con i gli orologi di giulia vai vai giulia questo è il primo orologio che mi ha regalato lo zio è del flick flack top bellissimo molto bello il secondo che mi ha regalato lo zio e fa la luce la luce top 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 e questo è questo è l'orologio che mi ha regalato il mio fidanzato francesco ma come fidanzato da molto soddisfazione cominciamo con gli orologi del zio adesso li ripassa e ripassa giulia giulia cominciamo con gli orologi della gioventù cos'è winchester e batteria spopolava quando ero piccolo infatti è l'orologio della quarta elementare ma sector o a dv 2000 degli anni 90 orologio regalo della prima liceo promozione della prima liceo un sector a batteria sector allora faceva belli orologi secondo me insomma vederlo così villervetta villervetta anni 97 è stato il primo orologio che mi ha regalato mia moglie allora mia fidanzata certificato cosca batteria sono orologi che non adopero più sarà un micro qualche russo questo è un racchetta rosa dei venti carica manuale arriva da san pietroburgo assieme a questo russo che ho scoperto cos'è durante il lockdown guardando una recensione e quindi ho scoperto il tuo canale anfibia cassa 40 l'ho usato spesso d'estate al mare devo dire che è un orologio per quello che vale molto affidabile ma hai visto quel logo lì di boston ultimo russo è sommergibile comandirsky carica manuale con l'immancabile sommergibile un quadretto suo cinturino un po scrauso e ho messo questo di gomma pittoresco poi andiamo con qualche vintage vai partendo dall'orologio del bisnonno mamma mia che avevo fatto cadere da piccolino ho fatto sistemare per ricordo funzionante roscof roscofato caviglier e un altro orologio da nonno uno zenith grand prix anche questo funzionante ma degli anni che furono ricordi poi qualche vintage questo è un bulova anni 92 di mio padre full gold mamma mia batteria non lo adopero più però lo tengo per ricordo certo mi ricorda mio papà quando lavorava ma va bene poi gli orologi del cassetto trovati veramente nel cassetto dei nonno di mia moglie un edox idromatic penso anni 70 questo recca sul fondello la scritta waterproof quindi e inca bloc quindi uno dei primi orologi che voleva essere un po moderno movimento eta 34 mm carino carino l'edox dai andando indietro col tempo penso uno dei primi orologi del nonno di mia moglie marca sconosciuta carica manuale come marghi funzionanti questi tutti messi a posto ma come marca sconosciuta c'è scritto festina mi sbaglio io o festiva festina comunque va bene sfere c'è qualcosa che non vale sfere ore e minuti sono di un colore quella dei secondi piccoli e di un altro vabbè però non capisco perché dici marca sconosciuta c'è scritto un nome lì con la sua bella patina piccolino molto bello molto bello e poi l'ultimo l'orologio della festa del nonno di mia moglie un 30l sicuro nois in calibro 30l acciaio completamente originale con la sua corona originale la sua fibbietta originale mandamelo a me un orologio elegantissimo dai cosa ci fai te adesso veniamo alla collezione dello zio sei pronta giulia ti piace sì re love love di nuovo bellissima diver per l'estate da usare senza pensieri classico tisot tisot sister 300 metri bellissimo per la qualità prezzo eccezionale bellissimo orologio da sfruttare in spiaggia sfruttare poi tisot in ordine temporale il primo orologio che mi ha regalato mia moglie o omega speed master moon watch calibro 18 61 l'ultima serie diciamo quella con la mega valigetta con anche il cinturino nato e quello della tutta spaziale che può essere molto utile per i viaggi spaziali giulia sì 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 andiamo nello spazio poi un diver un po fuori eberra bellissimo non i classici visti e rivisti e berard scaffo graf 1959 300 metri io lo trovo un orologio con una speccata personalità sottile mi piace bracciale di altissima qualità eberra lavora bene certo è uno dei miei marchi preferiti e poi poi un orologio che mi sono regalato per un successo lavorativo topino rolex deja 36 millimetri un classicone quadrante nero questo non ha bisogno di tantissime presentazioni è un po inflazionato però io lo ritengo l'eleganza fatta persona fatta orologio casomai e poi gli ultimi due questo è stato l'ultima mia acquisizione top banner ai luminor marina 44 millimetri con il suo calibro derivato dall'età valigiu 77 50 non sbaglio è proprio l'originalissimo un po grande è un orologio divisivo questo secondo me perché o piace come piace a me tantissimo oppure non piace perché mia moglie dice che ho una sveglia al polso ma la capisco e poi la capisco perché è quello che è quello che ho sempre pensato io dei panerai no grandi invadenti abbastanza anche con questa grafica un pochino così del ventennio sembra una grafica degli anni venti no poi piano piano sono arrivato a comprendere che devono essere così c'è un panerai al polso deve essere grande anche se poi anche se da 42 è ugualmente grande perché è sfacciato sfrontato come orologio quindi vanno bene gli panerai vanno bene cominciano a piacermi anche a me lo ripeto ora questo qua dovrebbe essere detto che c'è il 77 50 dentro dovrebbe essere il calibro 77 50 al quale hanno modificato togliendogli la parte cronografica io mirerei ad avere un panerai almeno con un calibro di quelli di ultima generazione fatti da dal gruppo da volfrorie o quello che è capito cioè questo sarebbe l'idea poi può darsi che prendo anche uno con l'unitas dentro cioè non è certo una discriminante così forte però se devo prenderlo magari boh vediamo e poi prima o poi è un ultimo per importanza e anche per affetto cos'è questo era l'orologio di mio suocero che purtroppo non c'è più e hanno deciso di donarlo a me questo è un breguet classic day date moon face full gold questo è un orologio che ti fa capire veramente la l'alta orologeria rispetto oggettivamente a tutti gli altri un orologio molto particolare che io conservo con tanto amore e affetto grazie per averci dato questo spazio speriamo nella pubblicazione di questo video soprattutto per fare contenta quella stanca cervelli di mia nipote nel frattempo noi ci salutiamo e quindi ti diciamo ciao Giulia ciao Giulia bravissima ti sei comportata in maniera eccelsa l'ultimo qua il breguet che è proprio l'archetipo dell'orologio di pregio no l'alta orologeria bello bellissimo però anche lì no a me non mi piace per solito discorso gli facciamo tanti complimenti lo elogiamo lo mettiamo sul piedistallo evviva 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 tutto quello che vuoi poi se non fosse un lascito del tuo suocero te non te lo saresti comprato io non me lo comprerei perché a parità di danaro speso sicuramente vado su altro qualcosa di più sportivo qualcosa di che mi dà più soddisfazione si dice così la cosa che mi piace di più è troppo classico non ci riesco io ripeto a volte vado a vedere sui web sites dei marchi importanti come fossero breguet gégé lecoutre vacheron constantin quello che ti pare a te no questi marchi da serie a la champions league vado a vedere che orologi offrono e non ci trovo niente di interessante cioè pur sapendo che sono orologi stupendi che le aziende le aziende sono da serie a che fanno super orologi io se non trovo un orologio che mi piace non lo compro anche se è c'è scritto breguet sopra non ci riesco quello lì non lo comprerei mai a meno che non fosse un super milionario con 427 orologi e il 428esimo cosa prendiamo adesso e prendiamo un breguet breguet solo lì perché sennò io mi piace di più il digest da 36 che hai mostrato nella sua semplicità acciaiosa che il breguet non so cosa dirvi ragazzi è così io la penso così è più forte di me so anch'io che sono è il top dell'orologeria ma non è non è un buon motivo per avere un orologio perché è il top dell'orologeria se poi non mi piace cosa me ne faccio per mostrarlo nei video degli utenti e no 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 poi per il resto complimenti per tutto complimenti alla giulia che fa che fa da valletta alla perfezione poi è sempre bello iniziare no la puntata con un video in allegria ma se mi avete strappato un paio di risate e mi cambia tutto tutta la giornata ora sta a vedere che arriva il video di quello che fa e siamo fregati proviamo andare a vedere da ciao davide un saluto a tutti gli amici del canale io sono antonio ho 27 anni vengo dalla calabria e finalmente mi sono deciso a mostrarvi la mia piccola collezione inizio subito senza farti perdere troppo tempo speriamo dall'unico vintage che possiedo è un orologio di cui su internet non sono riuscito a recuperare molte molte informazioni per me è un orologio molto importante perché mi è stato tramandato da mio nonno che è mancato con un incidente sul lavoro il danno che possiamo vedere qui sulla lunetta appunto il il danno riportato in quell'occasione non lo uso spessissimo io gli ho cambiato solo il cinturino perché quello originale lo rendeva inindossabile visto che era un po usurato però è un orologio che amo avere in collezione appunto per il valore affettivo che ha per me passando invece poi ai giorni nostri vai iniziamo con questo seico 5 è un classico senza ombre di dubbio l'orologio che mi ha fatto avvicinare di più al mondo dell'orologgeria l'ho trovato molto carino con questo quadrante blu solei leggibile l'ho acquistato e poi da qui insomma è stato tutto uno spendere e spandere di seico 5 ne ho anche un altro che è questo qui il filtro ed è sicuramente il seico 5 che amo amo di più perché lui usciva con un nato io l'ho abbinato questo cinturino in pelle che me lo fa apprezzare ancora di più bello 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 a vista molto preciso nonostante i seico 5 non siano famosissimi per la loro precisione insomma io trovo che questo allora bello non sono famosissimi per la loro precisione vabbè perché si va fanno i controlli a campione escono quelli regolati meglio quelli regolati peggio però questo questo cinturino che gli hai messo qua su questo seico 5 field è la morte sua devo fare i complimenti perché veramente mi piace e sembra veramente un orologio di un altro livello di altra qualità poi stavo pensando che il seico 5 di prima e seico 5 di adesso questi nuovi seico 5 qua della nuova generazione con la s così a 5 tipo superman 5s superman hanno tutti un'ottima leggibilità quelli della precedente generazione che sono ancora in commercio ci sono quelli che si leggono bene quelli che un po meno no perché ci sono vari stili varie tipologie questi qua nuovi siano i diver che i field che il gmt ultimo che è uscito con i numerini sulla ghiera sono tutti ben leggibili è un applauso a seico perché su questa particolarità caratteristica riesce a soddisfarmi e poi gli altri non so questo sia molto preciso lo indosso quasi tutti i giorni e mi dà molta soddisfazione un altro seico questa è una mod con movimento nh35 anche questo diciamo che lo indosso lo indosso spesso scuba master addirittura con questo cerco di vestirmi di verde il più possibile per per abbinarlo ma non ci credo è un orologio che secondo me molto bello molto comodo con questo cinturino in gomma come si suol dire minima spesa massima resa andiamo avanti poi con un orologio che ho desiderato tanto questo tisso prx quadrante tiffany in realtà purtroppo non lo sto indossando spesso ma è un orologio che ho acquistato per un'occasione per me molto speciale quindi diciamo che riserva un sempre un posticino nel mio cuore prx bello ma il prx non ha bisogno di presentazioni quindi io passerei subito al prossimo provo che il mio preferito tu cose cose che bei city forro cinturino in caocio non ci piace più ho visto online con questa configurazione me ne sono completamente innamorato stato forse da 16 e mezzo quindi quindi il city for con cassa 37 mm su di me sta sta benissimo e senza ombra di dubbio l'orologio forse uno degli orologi che amo di più senz'altro quello che indosso quasi tutti i giorni hai detto il secco 5 prima hai detto andiamo poi avanti con un altro orologio per me molto importante rolex explorer 36 mm 14270 la referenza l'orologio che indosso di più orologio datato ottobre 96 io sono nato nell'ottobre del 96 appunto bravo è un orologio per me molto importante era un segno del destino che oggi ci dovessimo trovare una delle ultime dei modelli uno degli ultimi modelli con un quadrante altrizio e anche questo portabilissimo 36 mm come dicevo prima per me vanno vanno più che bene lo indosso anche questo con piacere con piacere fa il suo e mi da molta soddisfazione bravo indosso in fondo un orologio forse davvero il più desiderato mi ha fatto l'ho dovuto aspettare un po di tempo però alla fine è arrivato rolex yacht master 37 mm con quadrante erodium l'ultima referenza 2686 22 questo l'ho acquistato questo dicembre dove se come a me è davvero davvero bellissimo la possibilità di prendere anche quello con il quadrante blu però io ho preferito questo perché secondo me è di gran lunga più bello dice probabilmente a gusto personale lo preferisco anche al al sub ebbè quello ci vuole poco che dire davide la mia collezione giunge al termine bravo ti ringrazio per lo spazio che che mi hai dato nel mio mirino c'è un oris big crown cervo volante so che l'hai recensito me ne sono innamorato proprio dalla tua recensione ora sto solo aspettando il momento adatto per acquistarlo grazie a tutti un saluto a tutti gli amici e ci vediamo presto ci vediamo presto che bello l'accento calabrese che no che c'è la sembra che c'è l'h dopo la t c'è sempre l'h da tutti tata bello bello che dire tanti begli orologi se parte con i seco 5 non sapevo dove andavi a parare che era già tanta roba perché sono due begli orologi con i seco 5 come ho detto io ci ho perso anche del tempo a parlarne quindi li ritengo dei belli orologi e poi dopo sei andato increscendo anche se te ho visto che col polso piccoli piccolo prediligi il black bay da 37 e il lo yacht master da 37 secondo me vabbè poi ognuno fa come vuole te giustamente scegli per con la testa tua sono veramente piccoli da 37 per lo meno per me perché gli orologi con una ghiera come il black bay e lo yacht master fanno modo che il quadrante sia ancora più piccolo quindi tendono un po a scomparire i diver piccolini piccolini mi fanno fatica a me io prenderei il 39 del black bay e il 40 dello yacht master che tra l'altro ora te mi dicevi che quel colore lì di quadrante è il più bello no giustamente per te mi vengono anche dei dubbi dico sì però è bello anche così grigio scuro però qua mi sembrava grigio scuro poi dal vivo grigio chiaro chiaro grigio chiaro chiaro non mi fa impazzire allora quasi quasi preferisco il blu ma niente dai complimenti per tutti gli orologi non so più cosa dire quindi diciamo che possiamo passare al prossimo passiamo al prossimo dai ciao davide ciao dirigo da giarra in provincia di catania e questa è la mia collezione di orologi parto dal primo che è un bellissimo orologio da taschino un longis tutto d'oro che mi è stato regalato dalla mia famiglia come regalo di cresima e che penso conserverò a vita scusa secondo te l'hanno regalato per la cresima quindi non è cioè un orologio vintage che loro ti hanno tramandato regalato per la cresima sono andati a comprarlo il giorno della cresima per regalartelo perché cioè non ho idea cioè quindi è un orologio a tasca contemporaneo tra virgolette perché te non è che c'hai 200 anni no quindi la cresima l'avrei fatta qualche decennio fa al massimo è un contemporaneo è un vintage non lo so non l'ho capito troppo veloce non l'hai spiegato però bello tutto d'oro poi lo vorrei io per la mia collezione di longis se ti avanza mandamelo poi abbiamo un altro orologio del grande valore affettivo che è l'unico quarto presente in collezione ed è questo casio vintage che apparteneva alla madre di mia nonna che mi è trovato perché hanno tenuto secco 5 troviamo il primo orologio automatico andato in collezione che un classicissimo secco 5 se che penso diciamo solo l'orologio che acquista quando ancora nemmeno sapeva la differenza o quantomeno la sapevo poco o oggi automatico e 1 al quarto bravo poi troviamo questo classico master full moon acquistato seguendo diciamo il canale al quale ho deciso di affiancare bravo cindurino giallo che però onnestamente forse solo due volte e poi basta più c'è coraggio è per il meme non c'è coraggio troviamo l'ultimo orologio entrato in collezione questo mi piace molto vostro che con bandischi in questo caso versione gmt acquistato appositamente per in vista di un viaggio intercontinentale che devo fare diciamo un gmt abbastanza particolare in quanto la langetta del gmt si muove insieme a quella delle ore no quindi tutto tutta la parte del del posolario viene fatta tramite la ghiera che deve essere impostata diciamo sì ma guarda che io l'ho sempre detto le continuo a ribadire che per me cioè se per risolvere un dato problema si trova una strada semplice corta economica e facile il problema lo considero risolto quindi se con un sistema di questo tipo si riesce a leggere un secondo fuso orario ben venga ha vinto questo orologio qua che pur non avendo un calibro gmt con le ore saltanti che questo che quell'altro che su che giù basta che gli muovi la ghieretta chiaramente la lancetta delle 24 ore rossa gmt si muove su 24 ore altrimenti non riuscirebbe a coprire la distanza delle 24 ore sulla ghiera che è già un qualcosina però lì basta raddoppiare se quella delle ore normali viaggia a 12 ore ci mette un ingranaggio che moltiplica e quell'altra girerà alla metà o al doppio insomma fatele voi calcoli trac e basta metterci una ghieretta intorno che alle 24 ore è risolto per me ben vengono questi orologi anzi secondo me sistema gmt più semplice che funzionale che ci sia voglio dire io c'ho il bright in gmt i numerini ce li ha all'interno del rio devo devo sempre fare il calcolo di moltiplicare il numero il numero arabo che c'è per l'indice no 8 16 questo qua non si sbaglia bravo ma l'orario corretto per quello che l'ho pagato 120 euro un orologio che dà soddisfazione anche perché rispetto magari al seco come qualità del bracciale a mio modo di vedere superiore le finiture sembrano discrete ma sì non c'è bello testare dovete l'affidabilità però mi sembra valido ma sì poi troviamo quello che utilizzo come orologio per diciamo per le occasioni le occasioni e questo zenith stellina bellino reti patina il quadrante invecchiata nel tempo che a mio modo di vedere lo rende unico questo appartiene a mio nonno che ha deciso di regalarmelo in quanto sa della mia passione purtroppo non ha la coronaco eva nemmeno il bracciale bracciale questa configurazione potrebbe sembrare abbastanza aggressivo come dress watch però mi piace al contempo possiedo anche un cinturino di coccodrillo che riesco a alternare e che ci sta bene ecco io ci lascierei proprio il cinturino di coccodrillo e metterei nel cassetto al buio in punizione quel bracciale lì non ho capito se è d'oro ora anche bracciale fondi lo fondi non credo sia il suo originale è possibile da quindi mettere nel cassetto usalo con un cinturino in pelle elegante non si può vedere quello bracciale lì così spacchia spacchia us spacchiano dai un altro orologio cos'è che ha degli accenni di oro questo rolex sub miner che mi ha dato mio padre questo fu acquistato nel 2005 alla modica cifra di 5300 euro ovviamente nuovo dal concessionario una cifra che oggi sembra diciamo della luna impensabile per un orologio del genere poi troviamo questo black bay 58 che a mio modo di vedere un orologio quasi perfetto bello ha un carattere tutto suo mi piace un sacco il contrasto del nero con il con gli indici e le lanciette dorate guilt le proporzioni sono perfette come daily watch per me uno dei migliori ma certo è stato comprato per una storia diciamo che vede protagonista anche quest'altro fantastico orologio che è il mio primo vero orologio diciamo di lusso questo zenith crono master spot che mi è stato regalato da mio padre per la laurea praticamente orologio comprato nuovo mi accorgo avendolo acquistato diciamo per l'elevata precisione del meccanismo perché questo è un aspetto che qui tengo molto appunto il meccanismo stesso mi accorgo che l'orologio perde esattamente un minuto al giorno questo è un problema portando all'orologio del concessionario mi disse che era un problema di frizione l'orologio è stato allora imballato e spedito a casa madre e dopo sei mesi in cui non ho potuto godermi il mio orologio appena acquistato l'orologio ritorna con lo stesso identico problema l'orologio non è stato nemmeno aperto mi viene detto in quanto dopo sei mesi è stato appoggiato sul crono comparatore i risultati erano validi e quindi sono rispiti indietro contento di provarlo lo rimetto al polso e noto che la problematica era identica e allora di corsa corro dal concessionario pretendo di parlare con un responsabile di zenith il quale mi dice che l'orologio essendo sotto periodo di feste mi sarebbe tornato sicuramente entro natale lo rimando in assistenza e torna dopo le feste quindi io non mi sono potuto godere per un anno intero questa meraviglia che adesso vendosi il mio regalo il 2024 in quanto posso godermi da quest'anno ci tenevo a condividere questo aneddoto che a me personalmente lasciato deluso al 100 per cento perché dopo una cifra del genere non puoi mandare l'orologio in assistenza due volte e non godertelo nei momenti migliori spero comunque che sia un'esperienza che non capiti perché veramente veramente è brutta e soprattutto dispiace per il tipo di orologio l'unico difetto di questo orologio forse è la clasp è un pochettino diciamo diverso il feeling anche dal tutto lo stesso però personalmente lo reputo affascinante e senza dubbio il più bello della mia collezione ti ringrazio per lo spazio che ci concedi speriamo di poterci aggiornare in un prossimo video ciao ragazzi il shit happens come si suol dire in quel degli stati uniti cioè i guai capitano i problemi con gli orologi i guasti succedono con tutti i marchi possono succedere e con tutte le fasce di prezzo ci sono anche orologi da 100 200 mila euro nel quale vengono riscontrato un problema viene rimandato in garanzia uno si dice ma costa 200 mila euro non dovrebbe avere succedono succedono negli orologi da 100 da 50 da 10.000 da 100.000 succedono chiaramente poi lì mi sembra di aver capito cosa può essere successo lì sul fatto dell'assistenza che loro non hanno nemmeno aperto la prima volta l'hanno messo sul crono comparatore come dici te e funziona tutta la perfezione dicono ma sto qua è un ubriacone e te l'hanno rimandato indietro in realtà non significa che una prova positiva al crono comparatore no che da esito che tutto funziona non significa che poi l'orologio non che sia preciso perché potrebbe esserci per assurdo una lancetta che si incastra in un certo punto perché è stata assemblata male e ti fa scartare di un minuto oppure come dicevi te la frizione che ti hanno detto o un'altra qualsiasi altra cosa indipendente dallo scappamento dal bilanciere che l'orologio ritarda no quindi avrebbero dovuto fare la prova quella metterlo lì guardare se veramente perde un minuto al giorno farò prima metterlo sul crono comparatore tutto a posto e te lo rimandano va bene succede succede dappertutto complimenti per gli orologi sei partito con quei quattro entry level per poi finire con i quattro di pregio che però mi sono reso conto facendo facendo due conti conto conti che teniamo tutti regalati uno è del nonno quell'altro alla laurea quell'altro tutti regalati quelli costosi te a tirare fuori i soldini per comprarti niente no va bene comunque verrà anche il momento che poi dopo dovrai aprire il portafoglio a fisarmonica ed acquistarti un paio di orologi di tasca tua se no sono buoni tutti stare lì aspettare che glieli regalano dai prossimo video ciao davide ciao caro Gianmarco dalla provincia di Ravenna e quella che ti vado a mostrare alla mia piccola e recente collezione di orologi automatici sono tutti orologi acquistati in tempi recenti sono contemporanei noti a tutti ben conosciuti quindi non mi soffermerò tanto sulle caratteristiche tecniche ma sul percorso che mi ha portato ad acquistare gli aspetti che più mi piacciono il mio percorso è iniziato nel 2019 con questo seiko samurai classico quadrante nero lo acquistai semplicemente perché vedevo mi comparivano tanti tante recensioni tanti video tante immagini online di questo orologio che motivazione mi ha incuriosito e l'ho comprato così un po a scatola chiusa senza senza neanche provarlo al polso si va bene ti dici che l'hai comprato a scatola chiusa perché guardato tanti gli ti compariva spesso davanti recensioni pubblicità e allora l'hai comprato non è così ora te stai dicendo così ma in realtà vuol dire che è scattato qualcosa l'hai visto tante volte ma io posso vedere tante volte un orologio che fa schifo e non mi scatta niente rimane lì se te l'hai preso se hai speso dei soldi sopra anche dei soldini vuol dire che è scattato qualcosa che ti piace non dire che l'hai preso per caso perché non è vero infatti lo dimostrano cosa che per un orologio con queste con queste dimensioni importanti è tutt'altro che un dettaglio soprattutto se sia un polso da 16 centimetri e mezzo come il mio e qua ritorniamo al solito discorso quando uno indossa un diver di questo tipo qua come questo qua spigoloso grande presente sfrontato sfacciato e grosso diciamo grosso va indossato anche con un polso da 12 se c'è se c'è il polso così è uguale deve fare la sua figura di orologio grande di orologio grande per andare a fare le immersioni che poi non ne fa nessuno per andare sulla barca qualcuno ci va per andare sul gommone per andare sul canotto ci vanno tutti sul pedalò per andare sul pedalò va benissimo ok al mare situazioni di piscina sportive d'estate quindi anche se risulta grande al posto deve risultare grande come ad esempio questo qua è il cartesantos questo quadrangolare è di presenza al polso deve essere di presenza deve essere di presenza come ti abitui per esempio a vedere qui richard mill no grossi al polso e devono essere così l'hanno fatti così gli ubo delle bestioni così e devono essere fatti così i panerai e sono fatti così sono logiche hanno la loro caratteristica peculiare di essere importanti al polso e vanno presi ed accettati per quello anche se uno ha un polso da piccolo non è che non si può comprare un panerai uno che ha un polso piccolo anzi fa ancora più differenza ed è quello che si deve vedere alla vista poi discorso estetico è un altro questo qua non è che te lo puoi mettere ad esempio per andare a una cena di gala no con il samurai con gli spigoli che sembra un transformer no no e l'ho comunque diciamo indossato molto l'ho un po alleggerito sostituendo il bracciale con un cinturino nato che riprende un po il colore della ghiera orologio che non è precisissimo un movimento molto entry level però ha delle finiture e una una robustezza che robustezza questo qua non è un nato questo qua è attaccato alle anse non è un nato questo qua è un cinturino in in tela con le anse tradizionali attaccato lì se ci metti un nato anche se lo metti single pass te lo alza ancora di più e te lo fa sembrare più grande bene perché io d'estate ad esempio con lo skin diver ci metto il il nato arancione non fa risultare il polso grosso ripeto d'estate al mare ci sta però questo qua non è un nato questo volevo dire sulla precisione mi dispiace però insomma i secco sono famosi per non essere sempre precisi diciamo così per non essere cattivi no uno non prende un secco per una precisione lo prende per altre cose come se per esempio prendi un emilton come vedo laggiù che ce l'hai sei quasi sicuro che nel 99 per cento dei casi avrà una precisione di marcia invidiabile e funziona così che mi piacciono mi piacciono parecchio ultimamente lo sto lo sto rivalutando molto rientra secondo me appiene un po in quella definizione di orologi strumento di tool watcher che ti sento citare considerano così ti dà l'idea di essere proprio un attrezzo hai capito finalmente passiamo al secondo diver anche questo è un una tua vecchia conoscenza il vostro canfibe di cui tu hai hai avuto la medesima referenza tu l'hai modificato io l'ho lasciato così tal quale io l'ho modificato questo orologio c'è anche una recensione sul canale vecchissima ci ho messo una ghiera di quelle europee di quel tipo submariner no mi sembra blu ce l'avevo messa tribolazione a cambiarla cioè veramente cose che non farei mai più perché c'è un un anello di tenuta al di sotto che poi dopo va rimesso dentro quanto tribolato a rimettere quel cavolo di ghiera e poi ci avevo messo il bracciale avevo comprato l'avevo comprato così e poi avevo preso il bracciale originale da da merano sul sito ufficiale della vostro con i finali adatti all'orologio è perché mi sembra che a quel tempo non erano presenti per la cassa per questa cassa in modo da poterlo creare con il bracciale perché mi piaceva bracciale mi piaceva braccialate e l'avevo scelto soprattutto per questo qua guardate la leggibilità com'è perfetta ed è senza data quindi non stai a faticare a rimettere la data perché questi non hanno la rimessa rapida della data di fare il giro delle lancette dalle 10 alle due torno indietro due e così via quindi l'avevo scelto così proprio un bell'orologio io se fossi te lo terrei io non ce l'ho più però l'ho comprato principalmente per per sperimentare sentivo in tanti parlare di questi in questi orologi russi mi piace molto questo questo effetto lente che fa sì il il vetro il plexiglass quando quando lo si inclina molto vintage e mi piace particolarmente anche il fatto che presenti questa questa bella colorazione blu accesa e queste scritte in cirillico sia sul fondello che sul quadrante sulla community di vostro che sono orologi ormai straconosciuti e noti però quando 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 lo indosso con con amici e colleghi sicuramente attira l'attenzione alla sua storia da raccontare bellino da un bell'orologio veramente guarda lì che bel vostro che che è quello lì rispetto ai comandieschi con il carro armato con il mig 29 con il sommergibile guarda lì tutti i numeri arabi a corollario quadrante blu piano e sfere a contrasto proprio bello importante interessante di questo orologio il terzo è un altro orologio che è passato per il tuo canale in una colorazione diversa è stato un acquisto un po compulsivo nel senso che mi piace tutto costava poco l'ho comprato è fatto bene molto lineare cercavo in realtà un orologio col bracciale integrato mi ero orientato inizialmente verso il prx poi quando ho visto la tua recensione di dello studiosa ho detto wow bene lo devo comprare l'ho preso giallo perché mi piace in questa fase della mia della mia collezione molto molto iniziale cambiare quindi cambiare movimenti cambiare cambiare modelli e anche cambiare colorazione fatto bene avere un orologio con un colore un così un po un po estivo un po più un po più acceso mi sembrava una buona opportunità anche per giustificare questo questo nuovo inserimento certo poi arriviamo al primo movimento svizzero acquistato febbraio del del 2023 ha il grande merito di avermi fatto conoscere il tuo canale nel senso che cercavo delle delle recensioni cercavo delle indicazioni su questo su questo orologio e chiaramente il khaki marf nella versione da 38 mm e mi sono imbattuto nella nella tua recensione da allora non ho più smesso di seguire grande è diventato una una mia droga quotidiana mi ricordo ancora che nella tua nella tua recensione dicevi che questo non non nasce certamente con con l'idea di essere un dress no ma chiaramente un una derivazione diciamo militaresse field watch però a queste a questa portabilità al polso a questi questi colori tutti molto molto tenui anche questi indici beige un po un po che sembrano un po consumati dal tempo e questa questa crassa cromata che lo rendono un orologio in realtà ben ben spendibile anche in contesti un po più eleganti tant'è che è l'orologio che mi ha accompagnato all'altare quando queste state mi sono mi sono sposato congratulazioni e quindi bene o male me lo porterò me lo porterò sempre anche diciamo nel nel cuore nei ricordi di quel giorno e anche in nell'album delle fotografie ogni tanto riguardavo l'altro giorno le foto lo si vede in maniera molto discreta a spuntare sotto al polsino e che non arriverà il divorzio riguardandolo penserò anche a questo orologio oltre che a quella giornata bravo ultimissimo orologio logi logi in spirit sul time acquistato un paio di settimane fa bravo bello inizialmente ero orientato per la versione solo tempo come come quella che anche tu hai acquistato dato il mio polso non particolarmente grande mi ero orientato verso la versione da 37 poi in realtà vedendolo dal vivo e mettendolo anche vicino al khaki marf mi sembrava di fare un po per così dire un doppione e ho voluto provare per curiosità lo zulu time non la funzionalità gmt non mi attirava particolarmente una complicazione di cui non me ne faccio niente e però io parliamoci chiaro non non lavoro con l'estero non sono un grande viaggiatore mamma del resto non faccio neanche particolari immersioni quindi è tutto relativo però devo dire che che me ne sono innamorato l'ho preso con con questa ghiera verde verde scuro che però tende anche al nero con determinate condizioni di luce e mi piace piace un botto questo proprio stato l'ultimo acquisto un po più importante rispetto agli altri ma non me ne sono minimamente pentito anzi è una delle cose che più mi piace è questo passaggio del della lancetta dei secondi che va che va a sovrapporsi con questo rombetto nei nei vari indici e orologio certificato cronometro iper preciso avrà perso meno di un secondo meno di un secondo al giorno in media quindi che io vuoi dire niente non utilizzo la funzione gmt ma ce l'ho quella 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 sfera lì e quindi che cosa ho fatto l'ho l'ho puntata su sul fuso radio di san francisco che è che dopo ho ho trascorso quest'estate il mio viaggio di nozze una città bellissima mi è piaciuta tanto e quindi avendo avendo questa opzione che faccio ogni tanto penso a san francisco all'orario che c'è a san francisco bravo bene direi che è tutto grazie per lo spazio che che mi hai concesso e continua così perché sei un grande grazie davide ciao 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 e niente cinque orologi e sono cinque belli orologi è iniziato da poco e c'hai il tuo bellissimo seichino il tuo bellissimo vostro che un emilton un longin è un citizen ma c'è potresti anche fermarti qui ma dove ti fermi qui ma quanto ma perché potresti anche fermarti qui e avere un insieme di orologi adatti a quasi ogni occasione un cronografino ti ci manca un dress watch ti si manca e vedi quante cose mancano non ci si può fermare mai comunque complimenti bello il zulu time lì alla fine non sembrava nemmeno a ghiera verde sembrava tutto nero ti capisco quando dici che il gmt non ti serve che non serve nemmeno a me io ho imparato quando indosso il bright in gmt a mettere il fuso orario a seconda del del gran premio di formula 1 il prossimo e successivo no se in giro per il mondo se in europa c'è un'ora due cosa ne frega l'orario è sempre quello quando è track metto metto il fuso orario sul gran premio così so che ora è in brasile per esempio e quando fanno le prove le controprove vabbè dai questi sono discorsi personali che vi ho condiviso proprio perché siete voi eh prossimo video ciao davide sono alessandro da firenze alessandro mando il mio terzo video dell'aggiornamento della collezione che è sotto in realtà al termine di uno dei miei video ti chiedevo un suggerimento per un acquisto a cui tu hai risposto se no un bra un bright ring bright ring gmt cronomat gmt come il mio con lo sconticino dell'amico lo trovo lo prendi a 5.000 bright ring cronomat gmt eccolo pensaci io ce l'ho mi piace allora da da dirigente adepto mi sono mi sono adoperato e mi sono messo subito alla ricerca alla fine però invece che andare sul nuovo bright l'incronomat gmt quello uguale al tuo che mi avevi suggerito che è bellissimo sicuramente però mi sono buttato su un bright ring cronomat prima serie infatti studiando un po scoperto che questo modello è stato progettato nel 1984 che è anche il mio anno di nascita quindi ho pensato che c'è di meglio che festeggiare il mio quarantesimo compleanno insieme a questo pezzo di storia dell'orologeria bravo l'ho trovato su crono 24 molto ben conservato con bracciale rollo scatola e garanzia originale bravo in realtà nonostante sia la prima serie quella con la referenza 81 950 è un transizionale perché ha la sfera dei secondi cronografici con il logo bright ring che è tipica dei modelli successivi di cronomat l'orologio era ed è in perfetta condizione funzionante però ho comunque preferito approfittare del servizio di certificazione di crono 24 anche solo per stare più sicuro e devo dire che lo consiglio a tutti la cifra pagata in realtà come il resto delle transazioni viene messa in stand by dalla piattaforma e viene richiesto di spedire dal venditore l'orologio non all'acquiret non direttamente all'acquirente ma in germania presso un'officina certificata di crono 24 l'officina l'orologio viene sottoposto a diversi controlli tra cui l'originalità la ricerca tra gli oggetti rubati smarriti e il funzionamento generale al termine dei controlli poi se è pienamente passato soprattutto quelli del furto e dell'originalità i tecnici di crono 24 rilasciano i certificati che vedete scorrere tra le immagini e successivamente speriscono a loro volta il pacco all'acquirente il servizio è costato all'incirca 200 euro poco tanto non so ognuno poi c'è la sua opinione a me in effetti sembra una cifra onesta per il servizio che offrivano insomma sono soddisfatto e almeno sono certo che l'orologio che ho acquistato è originale e funzionale a qualche acciacco dovuto dall'età ovviamente sono 40 anni e tipo la che allora sì questa cosa qua io non la conoscevo devo dire la verità sono rimasto un po indietro non deve essere un po recente perché non può essere che mi è sfuggita così praticamente fungono da intermediario si fanno spedire l'orologio quelli di crono 24 lo controllano e poi te lo mandano a te per 200 euro in più ti c'è delle carte che lo certificano sai che non è male come cosa invece perché se un giorno te lo vai a vendere quello è un valore aggiunto magari non ora magari non viene considerato come fosse una perizia di un qualcosa di un tribunale o di qualcosa però col tempo potrebbe anche prendere quel valore lì la certificazione di crono 24 non lo sappiamo in ogni caso ti hai messo un punto e poi qual è il vantaggio di aver fatto questa cosa mettiamola così che il venditore l'ha dovuto spedire a crono 24 con i tuoi soldi che ancora non sono fermi e poi crono 24 lo ha spedito a te ammettiamo che il crono che il venditore fosse un un imbroglione tu non ci rimetti niente perché c'è l'intermediario c'è crono 24 a loro non gli arriva a te li danno i soldi oppure in seconda battuta arriva crono 24 l'orologio è buono lo spedisce crono 24 a te non ti arriva tu hai a che fare come con le rimostranze con crono 24 direttamente che l'ha spedito quindi la risoluzione del problema diventa più semplice che non avere a che fare con un privato all'estero no ma io l'ho spedito no ma qua è arrivato un mattone no ma io non ti ho spedito il mattone no ma è stato il corriere tra privato e privato possono succedere queste cose se tu spedisci crono 24 è difficile è più semplice dare da risolvere secondo me è fatto bene da qui come si vede un po rilassata ma in generale sta benissimo e magari prossimamente gli regalerò una revisione completa al momento lo uso così successivamente a questo fantastico cronomat questo regalo per il quarantesimo compleanno mi sono appassionato al discorso sigal del quale devo dire non ho capito molto mi sono buttato su questo modello celebrativo in bronzo che ho qui tra gli anni viene dalla sigal 1963 che in realtà un'azienda belga credo leggendo tra le righe del loro sito che in realtà sia un importatore perché acquista gli orologi originali direttamente dalla cina direttamente dalla casa madre sigal però regala un servizio aggiuntivo agli acquirenti che è quello del controllo e della verifica quindi sicuramente non si può dire che non siano orologi originali frase che ho letto diverse volte sui vari blog e siti di appassionati perché in realtà vengono a tutti gli effetti prodotti dalla sigal cinese però hanno anche dei disegni diversi rispetto ai soli modelli prodotti per il mercato cinese e infatti vengono vengono anche fatti su su richiesta dell'importatore belga comunque lascio a voi le considerazioni io soprattutto mi sono basato anche sull'estetica del prodotto e volevo togliere lo sfizio hai fatto bene un bell'orologino un cronografo così economico non lo trovi più con le 719 lì guarda lì è un bel calibrino semplice tu dici che sigal 1963 che non è sigal quella cinese anche qua c'è una confusione veramente non sono mai riuscito a capire quali sono quelli originali quelli no sicuramente quelli che il sito di sigal è su mi sembra su aliexpress sigal.aliexpress.com costicchiano questi questi 1963 questi cronografi anche più di 400 euro mentre fatti da altri marchi costano anche 199 200 la metà e hanno il fondello trasparente quelli originali mettiamola così al fondello chiuso è veramente un casino con i cinesi non si riesce a capire chi fornisce chi chi fa chi chi lo fa con licenza chi non può farlo chi lo fa ugualmente ma non si capisce niente c'è un bel cronografino con le 719 goditelo poi in bronzo in bronzo non si è mai visto sembra che mi avevano contattato a me queste qua di sigal 1963 per offrirmi in recensione questo orologio qua che io ho rifiutato ho rifiutato proprio per non dovermi mettere a studiare a capire se sono veramente degni di utilizzare il 9963 o meno cioè ho detto lascia perdere non faccio nessuna recensione io tenetevi l'orologio perché è un casino è molto un calibro cronografico st 19 a colonne e con regolazione a collo di segno decisamente interessante da vedere molto di più di tanti altri orologi con un fondello trasparente è un 38 mm con la cassa in bronzo non non è trattato il bronzo di questa cassa e quindi mi ha affascinato il fatto che poi col tempo prenderà la sua patina che lo renderà unico un po' come è l'oris diver 65 le sfere hanno super luminova con una discreta durata e infatti rendono ben visibile l'ora anche di notte per un lungo tasso lasso di tempo un bel orologio per esplorare anche altri tipi di orologeria che che esulino un po da quella classica svizzera giapponese che ha un prezzo piuttosto mantenuto circa 400 euro 400 bene ti volevo lasciare però in realtà con una domanda barra richiesta sto valutando un ulteriore regalo per il quarantesimo perché ovviamente essendomi fatto il cronomat già da due mesi è svanito l'effetto regalo per il quarantesimo e mi volevo regalare uno zenith cronomaster sport con quadrante nero questo in foto è un orologio che che adoro però so googlando cercando un po tra i vari appassionati del marchio si è detto molto questo orologio soprattutto sul presunto fatto lo si è accusato ecco di aver scopiazzato il design del del rolex daytona a me in realtà poco importa perché comprendo le differenze ha il tasti a pompa 36 mila alternanze e molto molto altro i sottocontatori che che si 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 intersecano però capisco anche che ci siano dei limiti oggettivi nel disegnare un cronografo e mi faceva piacere il tuo commento e la tua sincera opinione al riguardo dai ti ringrazio sarà modo di pubblicare anche questo mio terzo video sperando che abbia fatto il suo che mi sia sembrato molto molto bello e che lo abbiate guardato con piacere grazie mille ciao 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 allora quello che frega lo zenith il primero il crono master sport lì è la ghiera la ghiera lì lucida che è molto simile i numeri i font poi sulla sulla ghiera sono differenti ed ha detto ora però c'è quella bella ghieraccia lì che è uguale a quell'altra di la simile diciamo no e l'idea che ti dà è quella no poi c'è il cronografo tra i contatori plus ma se guardi così nel dettaglio vedi che i quadranti completamente diversi sui contatori sono completamente diversi la cassa è completamente diversa e bussanti sono diversi bracciali tutto differente con quel cavolo di ghiera lì sembrano si matchano no sembrano quasi è chiaro che va che bisogna sdoganare quel quel design lì nel senso che se te lo prendi col tempo poi vedrai che nessuno ci più ci farà caso questa cosa qua se non sono usciti anche altri altri orologi che hanno la ghiera nera così tipo mi viene in mente l'emilton performer il long jean non mi ricordo come il conquest cronografo non mi ricordo d'altronde metti una ghiera nera in ceramica ecco fatto che si assomigliano tutti ho detto questo a me non mi piace questo il cronografo zenith il crono master sport non mi piace preferisco quello tradizionale proprio il 386 no però fanno da 38 e io per me 38 e troppo piccolo lo facevano da 42 per 42 troppo grande diciamo che sto tenendo fuori le scuse siccome esiste una cassa da 40 mm esiste ci fanno lo zenith il primero quello con l'open art con il buco sul quadrante e la cassa da 40 anche bella dico io ma perché non prendete quella cassa lì da 40 e ci mettete un quadrantino normale no da 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 banalotto come come sono io e mi fate un bel e per mero da 40 mm ci siamo quasi su da fate uno sforzettino fate uno sforzettino poi il resto cavolo è preso il bright il bright in cronomat quello vintage con tutta quella certificazione lì bravo è fatto bene con il bracciale ha sempre il suo perché a cartucera dai diciamo all'italiana così facciamo contenti gli amici che ci criticano per il linguaggio e poi il sigla 719 che ha pagato io ho detto questo era poco no 400 400 ci pensi le due volte comunque va bene giustamente come dici per esplorare nuove frontiere dell'orologeria ragazzi mi sembra di aver detto tutto a me eh io vi ringrazio per essere arrivati fino qua vi ho guardato i video con me e spero vi siano piaciuti se non vi sono piaciuti ce ne faremo una ragione e ne faremo altri aranda vi ricordo gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao